Buongiorno a tutti, oggi parliamo con Alessandra Anzini. Lei è una docente di scuola secondaria di primo grado, lei insegna arte e immagine. Lei di recente ha pubblicato un libro dal titolo molto curioso, Se da piccoli ci avessero detto. In questo libretto di poco più di un centinaio di pagine, lei racconta la sua esperienza di costruzione di un metodo di lavoro, di un metodo di insegnamento, di cui adesso parleremo, che lei ha chiamato mia e vediamo un po' di che cosa si tratta. Senta professoressa, lei di formazione è un architetto, lei ha svolto la professione di architetto per alcuni anni, poi ha iniziato a fare qualche supplenza, alla fine degli anni 90 lei ha deciso che avrebbe abbandonato la professione di architetto e che si sarebbe messa a fare l'insegnante. Quindi lei più o meno fa l'insegnante da circa un quarto di secolo. E lei per, come mi ha raccontato prima di iniziare questa chiacchierata, lei per un bel po' di anni è stata una brava insegnante di arte e immagine, ma un insegnante molto tradizionale. Poi ad un bel momento c'è stato un evento che ha cambiato la sua vita professionale e forse, questo ce lo dirà lei, forse anche la sua vita stessa. Ecco, ci racconti che cosa è successo nel 2018, che le ha fatto cambiare il modo di vedere anche la scuola, il modo di vedere i ragazzi e il modo di vedere il rapporto con loro? Nel 2018 io avevo una prima media con la metà degli alunni BES e DSA, senza insegnante di sostegno presente, quindi io avrei dovuto portare all'apprendimento tutti, perché questo è quello che, no? Noi stiamo per questo, perché apprendano. E con il sistema tradizionale io mi sono sentita messa all'angolo, impotente. E un giorno proprio, era il 19 novembre, non so quali circostanze si siano create, però ho detto ai ragazzi, ho cominciato a intervistarli tutti, per chiedendo come studiavano a casa. E tutti studiavano per ricordare. Non c'era nessuno che mi avesse detto, studio, sottolineo, ripeto, per capire. Addirittura un bambino disse che alla fine della pagina metteva una caramella in modo tale che nel momento in cui l'avesse detta tutta, la caramella era il suo premio. Allora ho detto ragazzi, ma voi rendete conto che questa è una modalità che si usa con i cagnolini al circo per fargli fare l'esercizio, poi manca la caramella e il cagnolino si ferma. E quindi addirittura un alunno però l'anno successivo mi disse che allora la nostra è una scuola dei croccantini, perché con il voto noi diamo i croccantini. Non c'è il voto, si ferma tutto. Comunque tornando a quel 19 novembre, una volta che io ho capito che non c'era proprio l'attitudine alla comprensione, ma soltanto al ricordo, ho detto e ho solo convinta che tutti sappiamo ragionare, cioè che sia proprio una competenza che ci è stata data di default dalla sopravvivenza. È una competenza che ha la pianta, che ha l'animale di raccogliere dati, ragionare e scegliere. Quindi lo fa la pianta, lo fa l'animale che non lo sappiamo fare noi, anche l'essere umano, quindi tutti sappiamo ragionare. E ne sono talmente convinta che l'ho messo come sottotitolo del libro, anche col punto esclamativo. Quindi adesso la palla, la patata bollente, me la sono messa io nelle mie mani. Quindi che ho fatto? Che sanno fare tutti? Tutti sanno leggere, tutti sanno scrivere, si partirà da là. Questa è l'unica competenza, per il requisito non serve la memoria, non serve la velocità, perché la memoria e la velocità sono due effetti che vengono dopo aver poi applicato quella che è la tecnica all'interno del mio. Quindi abbiamo iniziato dal limite, ma come? Perché io quello che vorrei sottolineare, che io non ho stravolto il metodo tradizionale. Il metodo tradizionale non può essere stravolto, perché sono le radici. Il metodo tradizionale io l'ho rivitalizzato, è come se fosse stato un innesto. Quindi quanti professori, quando si apre il libro, spiega, qual è la parola che non conosci? Ok, io di quella fase l'ho fatta con l'immaginazione, cioè ho detto che allora cerchiate il termine che non conoscete, lo chiameremo sasso, lo cerchiate con la matita grigia, così avrà la forma di un sasso e immaginiamo di stare in un bosco. Dentro questo bosco noi dobbiamo scoprire un tesoro. Tesoro qual è? È la struttura che sta all'interno del paragrafo, perché il nostro modulo è il paragrafo, non è più la pagina. E quindi qual è stata, diciamo, la magia? Qual è l'innovazione rispetto al metodo tradizionale? Che ho trasformato quelle che sono azioni astratte in un viaggio, attraverso l'immaginazione, le immagini, un lessico scolastico nuovo, un lessico incoraggiante. Ma tutte queste cose non sono nate quel giorno. Quel giorno è stato solo l'inizio, è stata la scintilla, ma poi ci abbiamo messo circa tre mesi per costruire tutto e alla fine dei tre mesi è nata l'esigenza del lessico. Senta, professoressa, lei nel suo libro più volte dice che il suo metodo di lavoro è un metodo dialogico. Che cosa significa esattamente? Cosa vuol dire? Dialogico è proprio dal greco, dialogos, cioè un combattimento di ragionamenti. DA, cioè dialogo non inteso come monologo, oppure un leco, io faccio l'eco all'altro. Proprio un dibattito, un DA, proprio il DA greco del contro. Tanto è vero che tutta il gruppo classe si chiama divergente discovery group, cioè è un gruppo di scoperta divergente e il gruppo classe a sua volta, il modulo base, la coppia divergente. Per cui all'inizio dell'anno ogni alunno deve individuare all'interno del gruppo classe il compagno che la pensa esattamente al contrario, cioè quello con cui non andrebbe mai a mangiare un gelato. E a loro piace moltissimo questa cosa. Senta, professoressa, entriamo un po' di più nel merito anche di altri termini e di altre espressioni che lei usa nel libro. Lei parla di MIA. Che cosa vuol dire esattamente? Che cos'è questo acronimo? Allora, non è MIA, il termine completo è IL MIA, perché MIA è Maieutic Integrated Approach, perché è basato sulla maieutica, integrata, si integra tutto come in un organismo, ma è IL ed è un approccio, non è un metodo, perché metodo, se in greco vuol dire strada. I miei alunni, altri eventuali colleghi che volessero, non possono fare la mia strada. Cioè l'approccio io ti insegno a camminare, ma poi vuoi camminare carponi, vuoi camminare in punta di piedi, vuoi andare a Parigi, quella è una scelta tua. Io insegno a camminare, cioè insegno a capire come capire. Questo serve il mio. IL, perché ho voluto IL davanti? Perché IL è articolo maschile, italiano. Quindi c'è un maschile con un femminile, è un po', è l'alchimia che avviene nel MIA. Il maschile che va con il femminile integrati insieme e IL è il sistema scolastico italiano, che è una, che è una, ha un valore enorme, perché questo ce lo riconoscono tutti. Ma il MIA invece è in inglese, perché anche il metodo anglosassone ha le sue peculiarità. Soprattutto nell'approccio con il bambino, c'è un rispetto per il bambino che noi purtroppo nel metodo tradizionale italiano non abbiamo. Abbiamo una sacralità nella disciplina. Gli anglosassoni hanno una sacralità nel bambino. Però, siccome la mia filosofia non è O-O, ma E-E, quindi ho voluto proprio con questo sposalizio mettere insieme maschile e femminile sistema italiano e sistema anglosassone, in modo tale da poter proporre un nuovo modo di stare a scuola senza stravolgere nulla, perché nella, io non ho fatto niente, cioè quello che noi usiamo è il libro, paragrafo, penna, sei matite colorate e un foglio, o è una multicolor, perché i colori sono importanti. Infatti nel libro io, non so se lei lo ha notato, ho aggiunto i termini, delle cose alla frase di Malala, no? Che dice un libro, una penna, un maestro possono cambiare, un bambino possono cambiare il mondo. Io aggiungo dalla mia esperienza un libro, un maestro, almeno due bambini, una penna e qualche colore possono cambiare il mondo. Perché i ragazzi se ne accorgono che non avviene la scoperta del tesoro, che poi è diventato il nome scheletro, senza la collaborazione di tutto il gruppo divergente. E nel mia funziona la minoranza, non la maggioranza, perché basta che uno del gruppo non è d'accordo sull'ipotesi di causa madre, che diciamo che è la matrice da dove parte tutto, il paragolinea, che non possiamo noi andare lì e costruire lo scheletro, perché se uno non è d'accordo evidentemente non gira, non funziona. E a volte è successo che siamo stati un'ora a caccia e avevamo costruito, me compresa, lo scheletro, ci sembrava super logico, quel paragrafo, lo scheletro di quel paragrafo era quello. Poi alla fine era suonata la campanella a un bambino e non lo convinceva. E quindi, professoressa, io non sono d'accordo, tutti fermi. Come non sei d'accordo? No, non sono d'accordo. Vieni, spiegaci. È stata una spiegazione talmente logica che è partito l'applauso. Perché nel mia loro sviluppano non la competizione, cioè funziona come uno sport, perché è un gioco a tutti gli effetti, le sue regole, gli indumenti, eccetera. Ma sviluppa la condivisione, perché loro si rendono conto, lo vivono sulla loro pelle quotidianamente, che l'ascolto deve essere comunicativo, cioè ci deve essere una commus, un regalo reciproco. Io quando ascolto te, nel momento in cui ascolto, se ascolto con la maiuscola, io so che tu mi stai facendo un regalo. E quindi io ascolto in maniera proprio empatica. Senta, professoressa, a sentirla parlare, a sentirla raccontare, mi viene da fare un'osservazione. Ma a me dà l'idea che lei e i suoi ragazzi, i suoi alunni, vi divertite molto quando fate lezione. È così? Sì, tantissimo. E soprattutto è la cosa bellissima, è che noi ci divertiamo su tematiche di una profondità, di uno spessore. Cioè noi ci divertiamo su concetti che stanno sul libro. Non è che parliamo di sport, noi parliamo di cose che stanno sul libro, di concetti proprio che fanno parte, sono i contenuti dei paragrafi. Ecco, ma non c'è il rischio che in questo modo i ragazzi, come dire, abbiano un po' la sensazione che la scuola non è una cosa seria, a scuola ci si diverte? No, allora no, perché loro capiscono che il piacere è generativo, è fertile e il dovere è sterile. Perché nel momento in questo è stato tutta la formula, tutto è nato dal piacere. Perché ho capito che capire è il piacere più grande che ha l'uomo, che può provare l'uomo, il capire. Quindi dovevo portarli a capire. Senta, questo viene addirittura sintetizzato e dimostrato, comunque mostrato, attraverso una formula quasi matematica, fisica. Ecco, la vediamo qui in questo momento, ci sono simboli strani, c'è una parentesi graffa, ecco ce la spieghi un po' questa formula, cosa vuol dire? Allora, questa formula è il racconto sintetizzato di un processo che è nato proprio dal piacere uguale capire, cioè capire, provo piacere. E da lì man mano che il fenomeno si ripeteva, era reiterato, noi mettevamo sulla lavagna, infatti nel libro ci sono le foto, i pezzetti che piano piano hanno dato vita alla formula intera. La formula intera nasceva all'inizio come capire come si fa, quindi è la tecnica del MIA, i sassi, lo scheletro, insomma quelle cose che stanno scritte sul libro, adesso non voglio annoiare a spiegare cose insomma un po' troppo particolari. Comunque capire come si fa, più allenarsi bene, perché nel momento in cui hai capito, lo hai capito, ma per il saper fare ti devi allenare. Io faccio l'esempio dello sport, ho detto quanti di voi giocano a pallone e l'allenatore vi dice come fare il movimento, ma voi vi dovete allenare per poi sapervi muovere. Nel momento in cui si associano questi due fattori si sviluppa un tempo famelico, cioè un tempo di cui loro sono padroni ed è famelico, c'è proprio la fame, il piacere proprio della fame. Questo qui produce una soddisfazione indistruttibile. La soddisfazione indistruttibile è semplicemente la fotografia di quello che io ho visto in classe, cioè quando questi ragazzi capivano, scoprivano lo scheletro, scoprivano la causa amare, si alzavano in piedi con una eccitazione e a un certo punto ho detto ma questa è una forma di energia, cioè perché l'energia è qualche cosa che fa spostare un corpo da un punto all'altro. Dico questi si sono alzati dal banco, sono venuti alla lavagna, si sono mossi. Allora dico ma allora che tipo di energia è? E l'abbiamo definita soddisfazione indistruttibile perché a differenza della soddisfazione di un papà che ti compra il telefonino, ti compra il motorino, basta un incidente e tutto si rompe. Invece quando tu hai capito, hai vissuto questa esperienza della comprensione, è un piacere profondo e nessuno te lo potrà mai togliere. Infatti gli faccio capire che capire deriva dal greco cape che vuol dire possedere. Quindi nel momento in cui tu capisci, tu possiedi, aumenta la tua ricchezza, sei più forte e quindi aumenta la sicurezza. Siamo ai confini della filosofia perché questa formula ci dà un po' la spiegazione di come si può raggiungere la felicità, è così? Sì, questa è la formula che avevamo ideato insieme perché tutto il mio viene costruito giorno per giorno in classe, io a casa non ho ideato nulla da sola. Comunque a un certo punto funzionava per me, però io non sono una scientifica, non sono un fisico. Quindi ho un amico che è un fisico, ho detto Francesco vieni, vieni me la correggere. Lui mi ha corretto un più e un meno, mi ha detto no questi sono due fattori che vanno con il per e non il più, però ha detto Alessandra guarda che tu qui non hai considerato il fattore alfa. Il fattore alfa è il fattore, e mi ha fatto l'esempio della lampadina, quando l'energia arriva la lampadina non è che esce identica, arriva 100 ma non esce identica, perché c'è quel filetto interno che trattiene e il materiale fa cambiare l'emissione di quell'energia e di quella luce. Quindi alfa è la propria storia, è la propria unicità, ma non basta perché lui mi ha detto questo. Poi ho guardato come funzionava il tutto, ho detto ma qui funziona in gruppo, cioè la soddisfazione indistruttibile, loro raggiungono nel gruppo, quindi non è solo alfa, è n per alfa e n sta per gruppo. Quindi alla fine questa formula sintetizza tutto quello che è il fare, perché capire come si fa è la tecnica, all'interno di un approccio, di un come. Pensi che dei ragazzi se la volevano stampare sulla t-shirt, tanto la sentivano loro. Senta, tutto bello, tutto interessante, anzi direi ancora di più, è tutto molto affascinante, però poi c'è un problema pratico, concreto, anche impellente. A scuola bisogna anche sviluppare i programmi, cioè bisogna, alla fine dell'anno bisogna aver fatto quello che i programmi prevedono, quello che c'è nel libro di testo, o comunque quello che il consiglio di classe ha programmato all'inizio dell'anno scolastico. Come si fa allora? Come conciliare il raggiungimento e lo svolgimento degli obiettivi del programma con questo che lei ci ha raccontato finora? Allora, il mio è assolutamente totalmente empirico, quindi ogni volta io le risposte le ho trovate fuori, nel mondo reale. Allora ho detto, ma se io sono una guida esperta, ok, e voglio far conoscere Roma a un gruppo di alunni, io che faccio? Porto, li porto a vedere il Colosseo, San Pietro, la Gnam, il Ponte della Musica, tutto? No. Io devo scegliere, essendo guida esperta competente, quei elementi di Roma che gli fanno capire non solo la romanità, ma anche gli insegnano a muoversi dentro Roma, per cui ho ideato i paragrafi crocevia, cioè il docente ha tutte le competenze per capire e sapere all'interno di quel capitolo quali sono i paragrafi crocevia, cioè quelli che fanno capire all'alunno il passaggio da un linguaggio all'altro, da un periodo storico all'altro, altrimenti è umanamente impossibile che un bambino, un alunno, possa ricordare tutto. Tanto è vero che all'interno di un capitolo posso scegliere io, nel mio viaggio di andata, due paragrafi, perché per me sono i due paragrafi che più li aiutano a capire, esempio, io parlo di me, il cubismo e la differenza col movimento precedente. È tutta una catena, quindi sono pochi paragrafi, però di grande spessore, di grande spessore, soprattutto sono paragrafi affascinanti perché sono i paragrafi dove tu capisci il passaggio del linguaggio o il passaggio dell'evento da un momento all'altro. Poi però c'è il viaggio di ritorno perché lo sviluppo non è soltanto del pensiero critico dei ragazzini, degli studenti attraverso questo approccio, ma la competenza finale è la scelta, saper scegliere. Ecco però poi arrivati alla fine dell'anno bisogna appunto aver concluso il programma e finito il ciclo, finito il terzo anno della secondaria di primo grado, si deve anche fare l'esame. È un momento importante anche da un punto di vista, se vogliamo, psicologico per il bambino, per il ragazzo, è un po' una sfida con se stessi e come si arriva allora a prepararsi? Sì, allora praticamente a loro hanno capito, questa è la base, hanno capito come funziona, quindi tutti i linguaggi dell'arte di terza media. Poi hanno la loro tematica, ok? La natura, l'amicizia, no? Si dà una tematica e poi su quella tematica si sviluppa il tutto. Lì c'è il viaggio di ritorno, cioè lì loro scelgono nel libro tutte le opere, tutte le opere che ritengono adatte agli aspetti che hanno sviluppato di quella tematica in funzione loro. Esempio, la natura, che cos'è per te la natura? Allora non so, io ho dato dai quattro ai sei aspetti personali e quindi in base a quella, non so, potenza e allora ti devi andare a cercare sul libro l'opera che secondo te racconta la potenza della natura e naturalmente nel momento in cui me lo scegli devi sapere vita, morte e miracoli. Il libro viene vissuto in quella maniera come una galleria, come un museo, perché io l'altra volta, l'anno scorso, l'ho fatto proprio con la gnamma, cioè loro avevano la tematica, c'erano gli aspetti che avevano scelto, li ho fatti entrare nella gnamma e ognuno si è visto la gnamma, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, secondo il proprio punto di vista, secondo la propria tematica. Quindi non ho deciso io come dovevano vedere la gnamma, quindi 20 ragazzi avrebbero visto la gnamma solo dal mio punto di vista. Loro hanno visto la gnamma secondo 20 punti di vista diversi, ognuno secondo la propria tematica. Quindi si arriva però a questo livello solo se si è abituati a ragionare, a scegliere, al pensiero critico, cioè a scegliere. Questa è la competenza ultima a cui arriva il mia e i ragazzi di terza media a questo devono arrivare. Quindi devono maneggiare gli argomenti come se fossero artigiani, come se fossero colori, come se fossero materia. Senta professoressa, dobbiamo avviarci alla conclusione. Lei nel suo libro in più punti parla di alcuni importanti riferimenti teorici che sono alla base del suo lavoro. Ne cito due, Marcel Duchamp, grandissimo artista del secolo scorso, e Danilo Dolcis, certamente uno dei più importanti pedagogisti, uno dei più importanti educatori della seconda metà del Novecento italiano. Com'è che è riuscita a mettere insieme arte e pedagogia? Lei non è una pedagogista di formazione, anzi è un architetto, quindi lei arriva da un altro filone di studi. Ecco, ma quindi com'è che lei ad un certo punto è arrivata a mettere insieme l'arte, la storia dell'arte con la tematica pedagogica? Lei che appunto di formazione non è una pedagogista. Come ha fatto? Allora, intanto è nato tutto un giorno alla volta. Io non sapevo, cioè ho iniziato ma non sapevo dove andavo a finire, quindi è tutto stato molto empirico. Danilo Dolci l'ho scoperto postumo, nel senso che ho avuto la fortuna di conoscere la sua assistente proprio con il suo braccio destro. Lei ha letto il mio manoscritto e è rimasta colpita perché ha detto ma questa è maieutica reciproca, tu hai fatto la maieutica reciproca e io ammetto la mia ignoranza e dico che è la maieutica reciproca. Io non sapevo cosa fosse la maieutica reciproca, però l'avevo praticamente realizzata. Questo da un punto di vista pedagogico penso che sia dal fatto che io da subito negli sguardi di quei bambini nel momento in cui sono entrata in classe, io là sono entrata e da lì non sono più uscita. Quindi in quegli sguardi io proprio sentivo come quando il capitano sente il vento che cambia, allora muove il timone. Ho fatto tutto così, quindi a me hanno aiutato, a me dice chi te l'ha insegnato, a me le hanno insegnato gli sguardi dei bambini e quindi là ho trovato le risposte. Per quanto riguarda Marcel Duchamp, io conosco Marcel Duchamp naturalmente essendo di arte e Marcel Duchamp per me è il padre del pensiero divergente. Quindi in conclusione da un lato dobbiamo perseguire lo sviluppo del pensiero divergente, lei dice, e dall'altro sviluppare pratiche di dialogo maieutico come ci ha insegnato Danilo Dolci. Per fare questo c'è bisogno anche di molto impegno ovviamente su se stessi direi forse innanzitutto, ma c'è anche bisogno di tanta formazione, è così? Sì, la formazione è stata la prima cosa, prima del libro, cioè alla formazione ho pensato prima del libro, poi ho capito che il libro sarebbe stato un po' la testa d'ariete che mi avrebbe aiutato a farmi conoscere, ma sempre finalizzato alla formazione, perché tutto quello che dico, cioè gli alunni dipendono al mille per mille dai docenti. Se il docente quotidianamente 200 giorni all'anno, sei ore al giorno, ha un approccio che non è comunicativo ma è trasmissivo, è ovvio che non arriviamo a questi risultati. Quindi ho capito che dovevo comunque preoccuparmi di una formazione, di pensare, di ideare una formazione e niente, piano piano ho intercettato delle persone giuste, adatte, per cui la formazione del MIA ha due attori, prevede due formazioni con due forme teatrali, due attori di teatro, uno è il teatro del corpo e l'altro è il teatro del gramlo, quello di Dario Fo, poi c'è la mindfulness, poi c'è la maietica reciproca di Danilo Dolci, poi c'è la comunicazione empatica, poi ci sono le tecniche investigative tenute da un comandante dei carabinieri, poi c'è un professore di sociologia digitale, cioè è un caledoscopio ma perché l'essere umano è così, non lo possiamo inscatolare dentro un unicum e quindi ho cercato di dire ma per arrivare a fare il MIA e arrivare ai bambini, perché ai bambini si arriva se si è autentici, perché se no non si arriva, loro non lo capiscono subito se sei, se fai finta o se sei o fai e allora dico il docente io lo devo proprio spogliare dalla paura, dall'ansia, perché guardi adesso il docente è totalmente in burnout e soprattutto la cosa triste che è, per me il docente è un creativo, è un creativo, allo stato puro, ok? Ed è anche coraggioso perché ha investito il suo futuro sui giovani e quindi sull'ignoto. L'abbiamo trasformato in un burocrate impaurito anche di alzare la mano, quindi io vorrei proprio con questa formazione liberarlo, liberarlo e a quel punto dargli la libertà di poter insegnare il MIA in maniera autentica e quindi di arrivare ai ragazzi. Quindi possiamo concludere dicendo che l'insegnante dovrebbe essere meno burocrate, anzi per nulla burocrate, dovrebbe essere come dire un artista creativo e divergente per essere lui stesso più felice e per aiutare i ragazzi a diventare felici. Certo la felicità è contagiosa. La ringraziamo professoressa, ricordiamo il titolo del suo libro se da piccoli ci avessero detto, però prima di chiudere definitivamente lei ci deve spiegare anche una cosa ancora, ma perché questo titolo è scritto un po' storto, come dire? Perché è la sintesi della filosofia del MIA, praticamente se da piccoli ci avessero detto, ha dentro tutta la responsabilità che ha l'adulto nei confronti del bambino, del giovane nell'educazione, ma non è solo il cosa si dice, ma anche il come si dice, per cui io l'ho scritto in modo tale da costringere il lettore a inclinare la testa, perché così si guardano i giovani.